good morning role players benvenuti anche oggi nel nostro spazio quotidiano dedicato a persone storie emozioni e sì anche giochi di ruolo vi amo vi amo vi amo tutti ed è per quello che mi piace parlare con voi condividere con voi i miei pensieri anche oggi che è san valentino ricordatevi di dare una parola d'amore a qualcuno a cui amate volete bene in qualsiasi modo lo amiate di qualsiasi tipo genera razza ideale insomma oggi è un giorno per condividere l'amore che non è solo quello romantico voi vi starete chiedendo perché sto registrando è uscito adesso così in ritardo il good morning role player perché ne avevo preparato un altro e poi mi sono accorto che era san valentino e allora un bel san valentino anche da gdm unplugged un bel san buon san valentino da mister mac che sono io allora oggi cosa facciamo top five dei miei giochi preferiti che quelli che mi hanno emozionato che parlano d'amore per cui iniziamo immediatamente con hot guys making out un gioco non portato in italia un gioco di bellema un gioco per due o più giocatori fino a 4 che parla di yaoi sì quel genere letterario manga anime eccetera eccetera in cui due ragazzi vogliono 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 tanto e non possono 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 tanto è un bel gioco una meccanica speciale di cart è un gioco che ha una meccanica allora ogni gioco che ho scelto ha una meccanica particolare e una tematica particolare per trattare l'amore ok un diverso punto di vista sull'amore in questo caso il la tematica e la meccanica la tematica è quella del ci sono delle cose che vorrei fare ma non posso ci sono delle cose che posso fare ma e posso fare liberamente e in questo caso io ho delle carte in mano che piano piano giocherò e poi rimpinguerò dal mazzo e le carte mi dicono quello che posso fare le caccione delle carte praticamente inutili che mi servono per colorare il mondo aggiungere dettagli un po come scartare le carte ok delle carte che mi appartengono e che quando le gioco posso descrivere azioni che fa il mio personaggio e che le fa normalmente riconoscete un attimo genere saprete che di solito i due caratteri principali si definiscono come uno più dominante che fa le cose ma non esprime mai perfetto nel fare le cose ma non esprime mai i suoi sentimenti e uno che invece riesce a esprimere i suoi sentimenti fino in fondo fin troppo ma è sempre parco nell'agire sempre ti meno nell'agire ecco questi due personaggi avranno carte diverse che gli potranno fare fare cose se per il primo può essere quello dire fare qualcosa perfettamente vincere una gara prendere il volo una persona che sta cadendo per l'altro queste cose saranno difficili da fare e sarà goffo nel falle per cui ci saranno meno carte che gli daranno meno possibilità di fare cose il e viceversa questa meccanica fa crescere la voglia di poter giocare le carte che vuoi anche perché le carte in cui puoi veramente esprimere i tuoi sentimenti e il tuo amore verso l'altro e andare a concludere sono veramente poche per cui si fanno desiderare molto e crescere l'attesa il secondo gioco che metto in questa top 5 è love in the time of seed love in the time of seed è un gioco che non è anche questo uscito in italia è un gioco basato sul motore arcipelago questo invece è uscito in italia adattato dai nostri amici di mammut rpg love in the time of seed è un gioco di matti solter e jason morning starli conoscete entrambi è un gioco che basandosi su arcipelago è molto improntato alla costruzione collaborativa della storia ci sono delle tematiche e portate in gioco dai vari giocatori senza gm e ci sono dei personaggi che saranno i fulcri saranno i protagonisti delle scene che si andranno a giocare cercando di costruire una storia interessante personaggi interessanti la meccanica qui interessante è che il tema dell'amore è portato da uno dei giocatori come sapete in arcipelago ogni giocatore ha una tematica che delinea dove andrà a parare il gioco in arcipelago di solito vengono scelti veramente in questo caso come la strain out of varsavia vengono definite prima e in questo caso è l'amore è interessante vedere come avere una una tematica di cui sia la responsabilità porti a ricordarsi sempre o almeno si dovrebbe farlo di colorare il mondo un po con quella cosa mettere ostacoli che riguardano quella cosa ed è interessante come senza tirare dadi o avere effettivamente token da spostare meccanica a fare comunque la storia si colori con quel tema altro gioco che voglio portare a mettere in questo top 5 è dubbio dubbio porta all'amore quando è in crisi questa coppia che nella realtà ha problemi recita sul set assieme una coppia che ha una storia anche lì insomma una la riflessione su quello che vuol dire essere in coppia e sui possibili tentazioni che possono mettere in crisi questa coppia in questo caso si tratta di un jeep form pubblicato in italia portato in italia da narrativa si gioca dal vivo interpretando i due attori e altri giocatori interpretano le controparti sul set e scambiandosi facendo i png dell'altra parte e la meccanica che viene portata dentro quella che mi è piaciuta parecchio è quella di parigi a un certo punto del gioco si può decidere di fare una scena a parigi e quello che succede a parigi rimane a parigi questo dubbio che solo un giocatore può scegliere di andare a parigi solo un giocatore può tradire e anche se non hai intenzione di tradire questo pensiero che l'altro ti possa tradire entra in gioco mettendo un tocco di paprika alle scene per cui molto 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 interessante altro gioco che voglio mettere dentro è girl cross boy un gioco pubblicato in italia portato in italia da coyote anni che fu e che non è più disponibile in coppia fisica forse in pdf provate a guardare coyote press al loro sito è un gioco molto semplice si gioca velocemente zero prep e in pratica cosa consiste una nuova ragazza è arrivata in città nella scuola e ci sono dei pretendenti ognuno un archetipo tipico archetipo tipico del dei fumetti dei manga degli anime del genere e la meccanica qui interessante è quella di distribuzione delle carte sì perché in pratica ogni giocatore porta fuori la protagonista perché c'è una protagonista e tre comprimari e porta fuori la protagonista a un appuntamento un momento condiviso e quando il giocatore della protagonista ritiene che l'altro giocatore abbia fatto qualcosa che le piace le dà una carta una carta coperta una carta del mazzo alla fine del gioco si scoprirà chi ha ottenuto più cuori capite anche voi che non tutte le carte sono cuori e quindi fino alla fine non saprai veramente se sei l'amata della protagonista tra l'altro stuzzichevole e interessante la protagonista è comunque costretta a comportarsi bene a giocare pulito perché è vero che alla fine chi avrà ottenuto più cuori sarà la persona amata dalla protagonista ma non è detto che questa cosa sia ricambiata per cui attenzione protagonista a quello che fai ok è un gioco mi stavo dimenticando è un gioco di Jake Richmond e Heather a Plinton c'è anche la versione Boy Cross Boy e questa sono in inglese e la versione Jedi Cross Seat per cui insomma ne avete a giocare vado a concludere questa top 5 se non mi sbaglio con Cuori di Mostro abbiamo visto diversi modi di interpretare l'amore Cuori di Mostro di Avery Alder abbiamo visto diversi modi di parlare d'amore Cuori di Mostro è quello che ti spiazza è quello forse un po' più complesso per meccaniche e per come lo tratta non sempre è un amore pulito romantico non sempre un amore positivo ma le varie sfacerature che escono dalle giocate di Cuori di Mostro sono quelle che mi hanno colpito di più appunto per la diversità con cui ne parla appunto perché attraverso il filtro dei giocatori permette di ragionarci su di razionalizzare e guardare col spirito critico quello che vuol dire innamorarsi e i sentimenti che ruotano attorno all'innamoramento certo è complicato è un gioco che spinge a farsi del male è un gioco che spinge a mettere in crisi i personaggi dei giocatori e i giocatori stessi attraverso il bleed però è un gioco che va provato con un gruppo sicuro è un gioco di cui innamorarsi come tutti gli altri per cui non mi resta che augurarvi buon San Valentino e rock and role play